Se proviamo a creare file e cartelle all'interno della cartella slash var slash www slash html, da interfaccia grafica non ci riusciamo. In Ubuntu Mate quello che possiamo fare è aprire la cartella html come amministratori, tasto destro sulla cartella html e facciamo open as administrator, oppure possiamo operare tramite terminale con sudo. Se ad esempio vogliamo creare uno script all'interno della cartella sito 1 public, possiamo andare nel terminale, andiamo nella cartella var www html sito 1 e per creare ad esempio uno script test.php facciamo sudo vim public test.php. Vediamo che il file ancora non è stato creato, verrà creato quando salveremo il file. Il problema dei permessi non è relativo soltanto al fatto che vogliamo gestire tramite interfaccia grafica file e cartelle delle nostre applicazioni, ma riguarda anche Apache. Se proviamo a creare un file all'interno di questa cartella con php e lo facciamo con fopen, passando come primo parametro a fopen il file che vogliamo aprire se il file già è esistente, oppure il file che vogliamo creare se il file non è esistente. Vogliamo ad esempio creare il file file 1.txt e passiamo a fopen come secondo parametro il flag w. Salviamo il file. Perfetto, vediamo che il file test.php è stato creato. Ma se andiamo nel browser e facciamo la richiesta http2.slash.local.sito1.slash.test.php Vediamo che il file file 1.txt non viene creato. Se andiamo nella cartella sito 1 vediamo che abbiamo questo file error.log in cui possiamo leggere eventuali errori avvenuti all'interno dell'applicazione. Apriamo il file. E vediamo che abbiamo failed to open stream. Permission denied. Quindi abbiamo un problema sui permessi. Non possiamo creare il file file 1.txt. Per risolvere il problema dobbiamo assegnare i giusti permessi alla cartella html e alle relative sottocartelle. E quindi facciamo sudo chown-r per operare in modo ricorsivo. Vogliamo che l'utente proprietario della cartella html e delle relative sottocartelle sia l'utente osboxes e il gruppo proprietario sia il gruppo che fa riferimento ad apaci ovvero www.data.com slash var slash www slash html Perfetto. Vediamo che adesso all'interno della cartella html possiamo creare senza problemi nuove cartelle e nuovi file. creiamo ad esempio una cartella sito 3 all'interno della cartella sito 3 creiamo un file index.php perfetto possiamo cancellare la cartella sito 3 torniamo nella cartella sito 1 public riaviamo apaci quindi facciamo sudo systemctl ctl restart apaci2.service ma vediamo se riusciamo a creare adesso il file file1.txt rifacciamo la richiesta allo script test.php f5 per aggiornare la pagina ma vediamo che il file ancora non viene creato se andiamo nella cartella html e vediamo i permessi sulla cartella html andiamo nella tab permission vediamo che abbiamo utente proprietario osboxis e correttamente abbiamo gruppo proprietario www.data quindi il gruppo apaci però vediamo che abbiamo i permessi soltanto in lettura non abbiamo i permessi in scrittura per assegnare anche i permessi in scrittura digitiamo sudo chmod meno r 775 slash var slash www slash html se andiamo a rivedere i permessi della cartella html vediamo ora che il gruppo proprietario ha i permessi per creare e cancellare file quindi i permessi di scrittura all'interno della cartella html torniamo nella cartella sito 1 public rieseguiamo lo script test.php e vediamo che finalmente siamo riusciti a creare il file file1.txt se andiamo a vedere i permessi del file vediamo che abbiamo utente proprietario www-data e gruppo proprietario www-data quindi sia utente proprietario che gruppo proprietario è riferito ad apaci e vi faccio vedere i permessi di scrittura a creare i permessi di scrittura a creare il file